salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video amazon modifica un altro dei suoi servizi si dopo aver annunciato l'introduzione della pubblicità dal 9 aprile per quanto riguarda il servizio di amazon prime adesso amazon ha annunciato che anche per quanto riguarda il servizio amazon come shop online ci sarà una modifica al suo servizio sì perché dal 25 di aprile i prodotti di elettronica non avranno più il reso a 30 giorni ma avranno un reso a 14 giorni quindi questa possibilità introdotta appunto dallo stesso amazon questo colosso dello shop online che aveva introdotto la possibilità di rendere i prodotti fino a 30 giorni da quando venivano acquistati adesso ovviamente tutto questo non ci sarà più per quanto riguarda i prodotti elettronici e sarà possibile appunto fare un reso fino a 14 giorni quello che normalmente succede un po con tutti gli store perché questo è quello che ci è permesso per il nostro recesso per quanto riguarda appunto la legge questo però riguarda tutti i prodotti tranne i prodotti marchiati amato lì sembrerebbe che rimarrà ancora la possibilità del reso a 30 giorni quindi un altro servizio va a modificarsi lo fa sempre ad aprire quindi sarà un mese molto intenso appunto per quanto riguarda le modifiche dei servizi amazon e questa è una modifica al servizio di cui io sono personalmente d'accordo perché probabilmente si è fin troppo abusato di questa possibilità nel senso che i resi fatti dopo i 15 giorni secondo me sono stati e stavano diventando davvero troppi anche per un colosso come amazon quindi amazon dovuto fare retromarcia su un servizio che aveva inventato lui la possibilità di fare un reso in un periodo così lungo però probabilmente amazon aveva sbagliato i conti su quanta gente avrebbe diciamo abusato forse fin troppo di questa possibilità quindi ragazzi vi aspetto qua sotto nei commenti scrivetemi la vostra opinione perché tutti noi abbiamo a che fare con amazon chi più chi meno acquista su amazon e chi più chi meno ha avuto appunto la possibilità di sfruttare questi 30 giorni per fare un reso come vi ho detto questo vale per i prodotti elettronici di tecnologia tranne quelli marchiati amazon almeno così sembrerebbe che con i marchiati amazon saranno esenti da questa possibilità dei 14 giorni ma rimarranno appunto di 30 giorni quindi vi aspetto qua sotto nei commenti con le vostre opinioni e se questo mio video informativo vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove portatevi tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dopo tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale ovviamente la maggior parte dei coupon sconto e dei link segnalati sono di amazon che andranno a perdere appunto questi 30 giorni ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità ciao al prossimo video ciao